Sono circa due anni che ho la foto di quest'opera come immagine del mio profilo di Whatsapp. Non conoscevo Davide, ma sentivo molto vicino a me la causa per la liberazione di Assange. E quest'opera per me ha sempre significato il simbolo della lotta per la liberazione di Assange. E' un'opera che fa, è veramente suggestiva e dà il coraggio di parlare, anche a chi in genere questo coraggio non ce l'ha. Io sono generalmente una persona dignita, non mi va di parlare tanto davanti agli altri. Ma quando ho avuto la possibilità di dare un contributo perché quest'opera arrivasse a Napoli e potesse essere vista e vissuta dai napoletati, l'ho fatto col cuore e sono concissima in questo momento perché grazie a Davide Dormino mi sta dando un'emozione enorme e quest'opera continuerà il suo giro nel mondo a portare la parola di libertà per Giuliano Assange. Grazie Davide.